Benvenuto Alessandro Ciuffa qui nella Sala Monteverdi di Cremona Musica. Grazie. Lei è il responsabile ideatore della linea Giuseppe Tartini. Ce ne vuole parlare? Sì, innanzitutto vorrei ringraziare la Fiera di Cremona per l'opportunità che ha dato a noi e a tutti gli altri espositori di essere qui a consolidare, nel caso di aziende già fermate sul mercato, nomi e brand importanti e il trampolino di lancio per aziende nuove e linee nuove come noi che si presentano sul mercato nazionale e internazionale proprio in questi giorni. Ha scelto Giuseppe Tartini come nome. Sappiamo bene la sua grande personalità. e la sua frase scelta nel vostro De Prian è molto bella. La musica deve essere alla portata di tutti e non solo delle famiglie nobili. Qual è l'obiettivo della linea attraverso gli strumenti definiti appunto la linea per studenti esigenti? Sì, il tutto nasce da un'esperienza che io ho fatto in questi anni, decennale, in quanto organizzavo concorsi regionali e nazionali proprio per giovani musicisti in erba dall'età dei 6 ai 14 anni. Dal palcoscenico delle sale da concerto e dai teatri ho fatto una promessa di essere accanto ai ragazzi e mi sono fatto ispirare e accompagnare ancora di più dalla figura di Giuseppe Tartini che appunto, come lei diceva, la musica doveva essere alla portata di tutti e lui questo lo diceva già nel 1728 quando era all'apice della sua carriera e veniva soprannominato maestro delle nazioni. Quindi i nobili inviavano i loro figli da tutte le parti del mondo per studiare l'arte del violino. Lui invece andava negli orfanotrofi e nelle case delle famiglie povere ad insegnare il violino come anche nutrire famiglie indigenti e orfani a proprie spese. Quindi dei contenuti musicali, didattici e umani veramente importanti. Noi abbiamo voluto completare questo percorso tartiniano aggiungendo e corredando di altrettanti contenuti importanti, didattici, musicali e culturali la nostra linea Giuseppe Tartini. Partiamo dal corde pirastro e setup fatto dal maestro Andrea Zippa, fatto proprio qui in Italia, per offrire una migliore suonabilità dello strumento. Uno spartito di un'opera di Giuseppe Tartini, che è il Trillo del Diavolo, che è l'opera più rappresentativa del maestro, per quello che sarà un'interpretazione futura, edito dalla casa tedesca Schott, nata nel 1770. Abbonamento alla rivista digitale Archimagazzi, per condurre lo studente in quel mondo più completo degli archi, nel quale possa incontrare i protagonisti del passato e di oggi, per un'esperienza ancora più coinvolgente. La vostra quindi è un'offerta molto completa. Musica che deve arrivare a tutti, ma musica di qualità. I vostri strumenti hanno quindi la mission di portare qualità agli studenti, che vogliono cominciare per un suono melodioso. Vogliamo presentare gli strumenti, li facciamo vedere? Sì, la scelta nasce già dalla fabbrica, di andare a selezionare dei legni che potessero dare una suonabilità e una risposta alle esigenze sempre più crescenti da parte sia degli studenti che degli insegnanti. Ci troviamo di fronte a una serie di otto strumenti che ricalcano come indicazione all'interno proprio i concerti tartiniani. Quindi questo in particolare è il concerto D45 con 5 anni di stagionatura. L'altro invece parliamo del concerto D115 con 15 anni di stagionatura, nocetta in ebano nel tacco del manico e una verniciatura fatta qui in Italia semi-artigianale. Questo perché ci teniamo affinché ci sia un'identificazione, una personalità che vada un pochettino oltre dal semplice strumento. Infatti i set li accompagniamo anche da un CD di quattro concerti tartiniani realizzati proprio da giovani studenti che ho incontrato in passato nei contest e abbiamo aggiunto per proteggere i propri strumenti un'assicurazione Assi Musica dei Lloyd di Londra per infortuni o incidenti che possono capitare durante il percorso. Amare quello che ci permette di esprimere la propria passione per noi della linea Giuseppe Tartini è estremamente importante. Noi siamo veramente entusiasti di accompagnare il percorso di studi di questi giovani talenti attraverso la linea di questi strumenti Giuseppe Tartini e auguriamo loro di mantenere viva la loro sensibilità e la loro passione per la musica. Benissimo, grazie Alessandro Soppa. Vogliamo ricordare il sito internet dove poter trovare la linea di cui abbiamo parlato oggi? Sì, su www.tartinigiuseppe.com e inoltre per informazioni, richieste e approfondimenti potete scrivere anche a ceo, chiocciola, tartinigiuseppe.com Benissimo, la ringraziamo a nome di Cremona Musica e grazie ancora. Ringrazio voi, arrivederci e una buona musica a tutti. Ringrazio voi, arrivederci e un'altra musica a tutti. Ringrazio voi, arrivederci e un'altra musica a tutti.